ciao ciao a tutti sono ancora qua per mostrarvi un nuovo tutorial non vi parlerò di angeli questa volta ma mi parlerò di collane vi mostrerò come realizzare una collana così semplicissima ma molto graziosa è veramente semplice nella realizzazione e nel tempo che ci vuole per farla forse una mezz'ora ma neanche forse anche troppo è anche semplice trovare tutti gli elementi che ci servono per comporla e semplice da assemblare adesso vi mostro anche come fatta da vicino praticamente se un nastro di alcantara e perle svaroschi di cristallo come volete bianche agganciate si può fare anche più lunga come volete basta allungare il nastro il nastro di alcantara e aggiungere qualche perla svaroschi io ve la mostro il vostro il tutorial per queste dimensioni qua buon lavoro tagliamo il nostro nastro di alcantara per 38 centimetri circa spuntiamo i nostri estremi del nastro tutte e due le parti facciamo venire infilare meglio il nostro materiale ok prendiamo la perla svaroschi da 12 mm ci infiliamo il nostro chiudino togliamo l'eccedenza tagliamo circa metà togliamo l'eccedenza del chiudino altrimenti sarebbe troppo lungo per fare l'asola prendiamo la pinza a punta conica e facciamo un'asolina poi prendiamo un anellino lo apriamo se si vuole infilare infiliamo la perla prendiamo le pinze a punta del curva e lo se Dio vuole lo chiudiamo ok infiliamo dentro il nostro nastro e cerchiamo la metà adesso infiliamo una perla da 4 mm dentro col foro largo ovviamente difficile da infilare noi ci aiutiamo con le pinze fino al fondo prendiamo anche quell'altra così vediamo la puntina la cifra ci aiutiamo con le pinze forse forse ce la facciamo le spingiamo fino al centro della nostra collana ok e adesso prepariamo le altre perle prendiamo una perla da 8 mm ci infiliamo il chiudino a testa piatta vediamo bene tagliamo un'eccedenza a più di metà perché la perla più piccola facciamo un'asolina e così prepariamo tutte le altre perle in questo modo le altre perle rimaste e gli aggiungiamo un anellino e lo chiudiamo e così ce ne prepariamo tutte le perle rimaste in questo modo così con l'anellino 3 4 5 e 6 ora prendiamo le perle prendiamo le perle dal foro largo ne infiliamo una e la fermiamo qua prendiamo una perla con l'anellino e lo infiliamo dentro in questo modo facciamo raggiungere la perlina e continuiamo facciamo anche dall'altra parte infiliamo sempre l'anellino dentro così sì e continuiamo mettendo 1 1 2 1 perla altri due perlina di metallo o schiaccini perché queste sono schiaccini veramente e adesso fra poco mi mostrerò il perché dall'altra parte 1 e 2 infiliamo 1 1 2 e continuiamo a procedere adesso modo 2 una perla e 2 2 perle di metallo 1 perla e 2 2 perle di metallo ok dall'altra parte uguale 2 perla e altri due ok ora stabiliamo dove vogliamo sistemare le nostre perle spostandole perché in questo caso si riescono ancora a spostare a parte quelle centrali ok ok iniziamo a fare così così qua dobbiamo sistemarle meglio diamo più o meno una distanza piuttosto della misura anche circa un due centimetri qua spostiamo ancora così si muoviamo bene 2 e 2 ok ok con la pinza a beccori curvo non è così semplice e la 1 e 2 in questo modo la perla non si muove più le perle non si muovono più e rimangono bloccate ora passiamo a chiudere la collana per cui mettiamo un terminale qua io consiglio sempre di mettere un goccino di colla con la tac o qualsiasi colla presa rapida che avete non so se questa presa rapida proviamo mettiamo un goccino mettiamo il nostro nastro poi con le pinze chiudiamo stringiamo queste due alette in modo da fermare se riesco perché alla fine non è così semplice ok stringiamo bene togliamo qua l'eccedenza e chiudiamo bene così mi sono attaccate le dita ora nel buchetto ci infiliamo un anellino lo apriamo bene e infiliamo se ci riusciamo la un anellino e un moschettone ci aiutiamo dalle ci facciamo aiutare dalle pinze e chiudiamo l'anellino ok questa è una parte chiusa col moschettone stringiamo un altro po qua ok e prendiamo l'altra parte e finiamo mettiamo mi sono attaccate la nostra colla mettiamo un gocciolino qua mettiamo il nostro nastrino l'appoggiamo per meglio vediamo se ha presa rapida prendiamo un po' e chiudiamo di nuovo le alette una e due stringiamo bene togliamo sempre la nostra eccedenza o le forbici e chiudiamo qua prendiamo l'anellino apriamo apriamo un filiamo prendiamo l'altra pinza e chiudiamo ecco fatta la nostra collana se vogliamo invece allungarla possiamo aprire l'anellino e aggiungerci un pezzettino di di catenina con circa un dieci centimetri otto centimetri l'andiamo a tagliare e raggiungiamo all'anellino andiamo a chiudere con le nostre pinze bene e in fondo ci possiamo aggiungere una perla per renderla più graziosa ed ecco fatta la nostra collana e in fondo